Ben ritrovati, ben ritrovati, tante volte e giustamente raccontiamo e sottolineiamo il caso e i casi delle donne uccise da uomini, però a volte è giusto anche ricordare che ci sono tanti uomini uccisi da donne. In Italia nel 2016 sono state 120 le donne uccise da uomini. Sono le vittime dei femminicidi, ragazze, mogli e amanti uccise dai compagni gelosi, ossessionati, convinti che quelle donne fossero una loro proprietà. Storie che occupano spesso le pagine dei giornali, tuttavia esistono anche casi opposti, quelli in cui a uccidere sono le donne e a morire gli uomini. Altro caso, stesso copione per Ernesto Ienco. E' il 25 ottobre del 2015 quando Ernesto, 31 anni, viene ucciso mentre rientra nella sua casa di Locride, in provincia di Reggio Calabria. Per quell'omicidio vengono arrestati la moglie Sabrina Marziano e il suo presunto amante, Agostino Michelotta. E naturalmente lo stesso orrore ci suscita una storia di maschicidio, lo chiamiamo così, visto che si parla di femminicidi. Io saluto intanto Barbara Benedettelli, scrittrice, che ha fatto un lavoro sul maschicidio per far emergere quanto sia sottotraccia ancora questo delitto rispetto al femminicidio. Tra poco ne parliamo, però voglio salutare anche Guglielmo Mastroianni insieme a Vincenzo, che è insieme a lui, Porpiglia, che è il cognato di Ernesto Ienco nella storia che abbiamo appena raccontato. E quella che hai alle tue spalle, se non sbaglio, è la villa dove è stato ucciso Ernesto. Ovviamente in un anno e mezzo da quando è avvenuto il delitto è cresciuta molta vegetazione, nascosta da questa vegetazione, ci sono ancora le macchine sia di Ernesto che della moglie Sabrina. Sono rimaste parcheggiate qui, c'è la macchina praticamente come l'ha lasciata Ernesto quella notte, quando di ritorno da un matrimonio che era stato celebrato a pochi chilometri di distanza, intorno all'una e mezza di notte è stato ucciso, appena ha messo piede in casa. Perché, mi permetto di aggiungere, la cosa che colpisce molto di questo delitto è che è un delitto in cui la vittima è stata uccisa all'interno di casa sua con dei colpi di fucile. Peraltro, e con noi c'è Vincenzo, che è il cognato di Ernesto. Guardi, noi abbiamo fornito solamente elementi da noi a conoscenza, per quanto riguarda un paese non le so dire. Ci sono anche delle indagini in corso, c'è un processo, c'è ancora da valutare la situazione per quanto riguarda Sabrina. Quello che le posso dire è che solamente cambia, viene travolta una vita, viene a mancare qualcuno un caro. Vedendo la casa così mi sento anche un po', uno ripercorre tutta la brutta situazione. Sono delle storie difficili, però per quanto riguarda l'aspetto processuale c'è ancora da vedere. Per quanto riguarda il livello familiare non possiamo rilasciare ancora informazioni. Ci sono tanti elementi da valutare. Quello che le possiamo dire è che viene stravolto l'equilibrio di una famiglia, viene a mancare un qualcosa, un amico, un cognato. Cambia tutto. Tu però ti eri accorto che c'era questa relazione in corso? Guardi, sì prego. No, no, rispondi pure. Non è che ce ne siamo accorti, non ce ne siamo accorti perché Ernesto era una brava persona, non valutava magari l'aspetto furbesco così, era una persona semplice, buona, quindi accorgere, non accorgere, superfluo. Il fatto è che è venuta a mancare sempre una persona, quindi è rilevante se non se ne accorge, non se ne accorge. Vincenzo, torni spesso lì o ti fa orrore, ti fa soffrire quella villa? Quando ti hanno detto cosa era successo, che cosa hai pensato? Per noi si è creato un grosso vuoto, perché avere delle abitudini, magari adesso si vede così in queste brutte condizioni, ma peraltro è un luogo di ritrovo a livello familiare, sono delle cose che scuotono comunque. Si è creato un grosso vuoto anche a livello familiare, anche a livello della mamma, la mia compagna, Chiara, che non se l'è nemmeno sentita di venire qua, quindi sì, cambia comunque qualcosa. Guardi, noi abbiamo piena fiducia nelle istituzioni. Quindi qualsiasi pena, spero, una persona che manca non può essere rimpiazzata da nulla, non c'è niente, ormai manca. Si spera in una giustizia severa comunque, in una pena abbastanza consistente e che venga fuori la realtà dei fatti e quello che è successo con la notte in questa casa.